sono le 15 e 35 del 3 gennaio 2023 adesso torno a casa mia e vi faccio vedere una cosa ecco qua facciamo il zig zag giro di qua giro di là poi riportiamo questa parte ecco qui vedi e li guardiamo anzi ma ciò che si passa che guardiamo una parte la parte ovest di luca dei mazzi cimitero vede sempre qui ci passa il cinghiale andiamo da questa parte questo il terreno combinando adesso ma ciò che passa qua sotto albicocche anche qui albicocche albicocche passiamo da questa parte pro riesco da questa parte qui passa fra un albero di noce e nocciole vediamo anche qui questo panorama qui sono stracato delle carote guarda si dionda di viola vabbè qua le sono rimaste guardiamo qua il panorama vicense che adesso che faccio proseguo qui mi rimetto qua dentro e ripasso qua in mezzo agli alberi qua deve finire raccogliere le mele stanno ancora quelle buone anche qui devo raccogliere l'altra mele qui abbiamo alberi di amarena quando si racconta parecchio amarena la mare nella famiglia delle ciliegie però che fatta la ratafea mia moglie ha fatto essiccare lo metto sul gelatore e qui ho messo lamboni esatto ecco i lamboni 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 nocciole nocciole questa marena un albero di melo questo è un albero di albicocco allora è vero che gli esseri umani non è carini tutti alla terza età c'è chi muore ragioni chi appena nati chi ha vent'anni chi ha trenta e chi invecchiai anche gli alberi nuove ecco qua questo si è essiccato semplicemente anche la natura muore e rinasce allora qui ho messo una varietà di però selvatico selvatico il portinnesto e selvatico l'innesto il portinnesto questo qui è nato ecco qua vedete questi qui sono la nascita delle radici di questo qua nel portinnesto il portinnesto è proprio qui io ce l'avevo mentre qui è il punto di innesto e qui abbiamo abbiamo una sembrasse varietà di pere anche questa qua questo è quello più anziano che si avrà circa vent'anni ecco il punto di innesto queste sono le ultime pere ecco qualcuno l'ultima che è caduta questa è ancora buona questa è solata che la raccoglie ancora buona mangiare eppure siamo all'artipiano del cucino l'artipiano del cucino va bene la passaggia